Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di Joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e come ogni giorno ragazzi facciamo subito il giro e oggi vince Federico facciamo subito ovviamente il giro ragazzi bentornati in questo nuovissimo video io sono Cecchinato e oggi siamo in un nuovissimo video su Fortnite News per andare ovviamente a vedere un sacco di spoiler per l'evento finale si sta avvicinando l'hype sale e gli spoiler continuano ad arrivare quindi subito un bel like se non sei ancora iscritto iscriviti al canale con la campanellina e detto questo possiamo subito partire con le prime novità di oggi in questi ultimi giorni ragazzi ve lo dico già stanno solo ed esclusivamente uscendo news per l'evento finale quindi direi che nei prossimi video parleremo praticamente solo di questo evento finale che ragazzi sembra essere veramente uno degli eventi forse più belli che Fortnite abbia mai fatto innanzitutto infatti come ben sappiamo il peso dell'evento è quello più pesante in assoluto di Fortnite quindi ci possiamo aspettare veramente un grande grande evento iniziamo però con la prima news che come possiamo vedere praticamente dopo un terzo impulso dal dispositivo che è successo mi sembra stanotte è apparsa una luce arancione rossa insomma come vedete qui alla mia destra si suppone che indica il livello di potenza del dispositivo infatti se queste scariche vi sono sembrate forti pensate al livello massimo quanto cavolo può essere potente questo dispositivo degli OE quindi abbiamo visto solo il minimo finora della potenza di questo di questo insomma di questo oggetto qui insomma di questo dispositivo chiamatelo un po' come vi pare e come possiamo vedere abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci stacchette che indicano ragazzi quindi probabilmente la potenza e adesso è impostata sul livello 1 quindi pensate al livello 10 cosa potrebbe succedere appena verrà attivato in più ragazzi sembrerebbe che mano a mano che andiamo avanti con i giorni e praticamente il dispositivo emetterà molte più insomma frequenze di quelle che ovviamente ci sono adesso quindi mano a mano che passano i giorni potremmo avere sempre più frequentemente queste diciamo questi impulsi di energia sparati proprio nel cielo e ragazzi guardate qui arrivano ancora altre conferme per quello che riguarda la luna infatti come ben sapete attraverso probabilmente delle capsule che ci sono delle texture infatti abbiamo visto nei file di gioco dal video news di ieri probabilmente avremo catapultati nello spazio precisamente sembrerebbe nella luna che infatti oltre ai texture ci sono pure le rocce come possiamo vedere qui alla mia destra quindi è praticamente confermato che ragazzi durante l'evento finale andremo probabilmente sulla luna e attenzione ragazzi perché sembrerebbe che abbiamo quasi diciamo una conferma per quello che riguarda la data il 4 giugno alle ore 5 ragazzi ci sarà un torneo in zero costruzioni questo vuol dire che molto probabilmente l'evento accadrà il 4 giugno alle ore 22 ragazzi quindi la data potrebbe essere tra le 21 barra 22 questo ovviamente ancora a confermare ce lo dirà epic stessa ma la data sembrerebbe ragazzi il 4 giugno alla sera quindi probabilmente questa sarà la data ufficiale e vi ricordo già che parliamo di evento finale eccetera che ovviamente sarò in live sicuramente qua su youtube quindi vi aspetto reagiremo all'evento e ovviamente vi ricordo che dopo l'evento ci sarà chiaramente il server offline quindi ci sarà il classico la classica schermata continua nella stagione con il countdown quindi ci sarà ovviamente tutta la notte i server offline la mattina del 5 giugno quindi in teoria server aperti per tutti verso le 10 e mezza massimo mezzogiorno se non fanno ulteriori ritardi e potremmo giocare ovviamente la nuovissima stagione in più ragazzi ci spostiamo un attimo dall'evento finale ma tranquilli adesso ci ritorniamo perché abbiamo l'ultima news come possiamo vedere sembrerebbe che possa arrivare una collaborazione con pacman infatti è stata innanzitutto trovato un tweet da parte di fortnite che si congratula per il loro anniversario ma come possiamo vedere molto probabilmente potremmo ricevere delle skin che avranno diciamo come tema quello che ovviamente è il gioco di pacman quindi potremmo avere un set nel negozio oggetti e basta questa dovrebbe essere insomma la collaborazione potrebbe magari anche arrivare un gioco in creativa simile a pacman comunque ritornando all'evento finale ragazzi ultima novità che abbiamo di oggi è quella della ricompensa gratis per tutti quelli che guarderanno l'evento finale infatti mi raccomando ragazzi accendete comunque la vostra console il vostro pc e guardate l'evento finale perché per chi guarderà l'evento avrà come lo è stato per l'ultima volta insomma che c'è stato un evento una ricompensa gratis che sicuramente potrebbe essere una schermata di caricamento potrebbe essere una copertura armi oggetti di questo genere qui quindi mi raccomando guardate l'evento perché sono ricompense super esclusive vi ricordo che ovviamente poi il negozio oggetti cambierà avrà un aspetto diverso tra le altre cose a tipo lo sfondo dello spazio quindi probabilmente potremmo vedere magari quelle due skin che abbiamo già visto nei scorsi video news che sono la nuova paradigma e il jonesi versione prigioniero sempre se ovviamente verranno messe perché magari non le mettono adesso le mettono magari nel prossimo pass non si sa questo però comunque lo shop cambierà quindi ci sarà sicuramente qualche novità sicuramente ci sarà magari il ritorno della skin del mecha paradigma non credo che la classica torni purtroppo ahimè è l'unica skin dei sette che mi manca e purtroppo non potrò credo shopparla difficilmente ritornerà perché c'era scritto periodo limitato quindi in teoria non dovrebbe tornare ed è l'unica che mi manca pensate un po' c'ho tutti i sette dal più G della stagione 4 del capitolo 1 all'ultimo uscito l'unica che era uscita nello shop purtroppo non l'avevo presa che costava 1200 di bucks quindi purtroppo credo che non torni però mai dire mai ci speriamo insomma detto questo per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto abbiamo visto un po' di spoiler fatemi sapere cosa ne pensate cosa succederà durante l'evento e le vostre teorie noi ci vediamo comunque domani alle 16 sicuramente con altri spoiler per l'evento finale ragazzuoli bella ciao 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 ciao